Operazione per mettere lo zafferano. Siamo addirittura d'arrivo. Facciamo tre operazioni insieme. La cuoca mi sta riprendendo. Usate la visione dello zafferano. Abbiamo messo zafferano. Ecco. Zafferano. Due noci. Quanto? Così? No, meno. Così? Di meno. Così? Così? Allora. Abbiamo messo il burro e due bei cucchiai. Quindi, diciamo, mettiamo, non dico ammuzzo, ma. Mi dà un consiglio la cuoca. Vai, vai. Basta e poi lo riaggiungiamo. La cuoca è detto basta e poi lo riaggiungiamo. Ecco che arriva l'ingegnere. L'ingegnere stiamo facendo il video. L'ingegnere stiamo facendo il video del risotto al marmionese. Inquadra pure l'ingegnere. Ma dove sta l'ingegnere? Io direi quasi che ci possiamo dire quasi soddisfatti. Aggiungiamo un altro pochino di parmigiano. Aggiungiamo un altro pochino di parmigiano. C'è la cuoca e noi ce l'aggiungiamo. Non diamo adito a condizioni negative di questo lavoro. L'unica cosa è che il cuoco e la cuoca sono stati per tutto questo tempo in piedi. In cucina, si sa, non si sta seduti. Io direi quasi quasi che sotto il consiglio anche della cuoca, Manuela, ci possiamo dire quasi soddisfatti. Bene, adesso dobbiamo soltanto creare l'impiattamento del risotto al marmionese. Abbiamo finito il video. Vi salutiamo e buon pranzo a tutti. Grazie.